buongiorno e benvenuti a degustibus il programma più odiato dai latinisti siamo qui al ristorante la chicca di san bauro pasquali e vediamo come vediamo salvatore che sta degustando un rotolo denominato biancaneve con i gusti che gusti ci abbiamo salsiccia e funghi mazzarelli si sentiamo il parere di bernarda ti posso riprendere ti posso dai dv6 vabbè niente dopo ti taglio però non va bene e com'è no ma si dice no ma si ok tu la devi ragionare all'inverso facciamo così la metto gli metto il nome d'arte il nome di fantasia erotica e dopo e gli metto il coso allora che voto gli dai questo biancaneve eccellente no quante gomme michelin gli dai ma sui da 0 a 3 da 0 a 3 bravo tre gomme michelin va bene allora buon appetito è gustabile anche la salsiccia naturalmente gustabile però allora buon appetito buona giornata e distinti saluti alla prossima è vero sempre